Amici di Raiuno, buongiorno. Lunedì 26 dicembre, festività di Santo Stefano con molti italiani che hanno raggiunto le località turistiche di montagna e non per trascorrere le vacanze di Natale con i familiari. Spostamenti oggi agevolati dallo stop ai mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Come di consueto monitoriamo in real time le immagini di Cigiumoli in diretta che evidenziano viabilità fluida. Qui siamo sulle tratto capitolino della 24, andiamo al nord esattamente sulla 4 in prossimità del rover 1 est e dove si viaggia con tutta tranquillità. Ad ogni modo abbiamo una viabilità condizionata dalla pioggia sulle strade della Liguria ma anche sulle strade del centro dalla nebbia con visibilità ridotta. Vi comunico con grossi disagia la viabilità perché è avvenuta una frana ieri sera ed è chiusa la strada statale 26 della Val d'Aosta tra Pressandidie e Latuil in entrambe le direzioni. Altra frana che sta provocando dei rallentamenti sulla strada statale amalfitana tra Vietri sul mare Meta di Sorrento e poi vi comunico che è ancora chiusa sulla venti la Palermo Messina per un veicolo mezzo pesante in fiamme che ha danneggiato le strutture della Galleria Telegrafo e le deviazioni sono tra Messina, Boccetta e Rometta in direzione di Palermo. E poi abbiamo un incidente che al momento sta sviluppando dei rallentamenti sulla tangenziale di Catania a Gravina e notizia appena giunta di un incidente sulla Firenze mare, sulla Firenze Pisa esattamente tra Alto Pascio e Capannori, un incidente da poco verificato vi daremo informazioni nelle prossime edizioni della nostra rubrica. Mi fermo qui, a voi tutti una bellissima festività di Santo Stefano e come sempre la linea torna a Rai 1. Arrivederci, buona giornata!